Credo che il problema sia politico prima che personale, nel senso che qualche giorno fa Berlusconi ed Alfano hanno fatto una proposta politica a nome del PDL ai centristi per costruire uno schieramento alternativo alla sinistra e se nel frattempo il PDL si autodistrugge seguendo la linea geniale dell'onorevole Santalchè questa proposta viene meno e rimane soltanto un mucchio di maceria di conseguenza è evidente che va mantenuta la linea scelta da Berlusconi e da Alfano